Meteo per sabato 8 luglio 2023. Innanzitutto, vorrei invitarti ad iscriverti e da lasciare un mi piace, grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. La parte meridionale di una profonda depressione oceanica ad ovest del Regno Unito tenderà a scivolare verso sud in pieno oceano, scorrendo sul bordo nord-orientale dell'Alta delle Azzorre. Di conseguenza, tra sud Europa e Mediterraneo prenderà ancora più slancio la risalita verso nord dell'anticiclone africano, che oramai avrà inglobato buona parte dei settori iberici e della penisola italiana. Ci attendono quindi giornate molto calde e con elevato disagio per AFA. Previsioni meteo in area italiana per sabato 8 luglio 2023. Nord. Stabile e soleggiato con al più la formazione di qualche addensamento pomeridiano sui settori alpini. Non sono da escludersi locali blandi rovesci sulle Alpi Trentino-Venete. Centro. Cieli sereni o poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche modesto ed innocuo addensamento pomeridiano sulla cresta appenninica. Caldo in ulteriore intensificazione nelle vallate interne. Sud e isole. Soleggiato su tutte le zone con solo locali in nubi pomeridiane di poco conto sui rilievi. Netto aumento del caldo e dell'AFA sui settori insulari a causa dell'ingresso di aria di diretta estrazione africana. Temperature massime in aumento su tutte le zone con il ritorno del caldo e dell'AFA nelle vallate interne. Minime anch'esse in generale aumento. Valori che schizzeranno sopra la media per termiche africane in ingresso da sud e già oltre la 23 ad 850 etto pascal sulle isole. Ventilazione tra debole e moderata a regime di brezza. Qualche rinforzo da maestrale sui settori basso-adriatici, specie nella parte centrale della giornata. Mari da poco mossi in area alto-adriatica a mossi altrove. Localmente molto mosso lo Ionio. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. L'alta africana si impossessa da domenica della nostra penisola e la attanaglia nella sua morsa di caldo e d'AFA. I cieli saranno per lo più sereni con solo qualche addensamento nei pressi dell'arco alpino, accompagnato da possibili isolati piovaschi o brevi temporali. Giornata molto simile lunedì, con un'ulteriore intensificazione del caldo e dell'AFA. Le termiche in quota oltrepasseranno la 25 ad 850 etto pascali in Sardegna. Massimo allerta per pericolo riguardo anziani e fragili. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.